La tigre del farweb che gioca a minecraft con qual volume che c'è Nuke 4316 E dopo svariati e svariati pacchetti provati Uno buggato, uno crashava, l'altro perdeva il mondo, l'altro faceva la cacca e quant'altro Abbiamo finalmente trovato un pacchetto che credo sia stabile Si tratta di un pacchetto di 180 mod della 1.6.4 di minecraft Ragazzi si, ciao a tutti sono Luke e benvenuti in questo nuovo video E' primo di questa serie, spero lunghissima, perché non aggiornerò la 1.7.2 Già la 1.7.2 è buggata di per sé, di base Figuriamoci con i pacchetti di mod Per cui non mi rompete le scatole quando uscirà, se uscirà e quando usciranno Ragazzi per chi non mi segue in live, anzi vi consiglio a molti di seguirmi quasi tutti i giorni Tra le 15 alle 16 dovrei partire anche oggi Ho testato diversi pacchetti, anzi a proposito di pacchetti, prima di cominciare questa serie Volevo annunciarvi un paio di cose urgenti Prima di tutto vorrei che nei commenti mi scriveste se volete un video 15, 20, 30 minuti, ma uno ogni 2-3 giorni Perché sapete i miei grossi problemi di connessione finché non mi arriva la fibra ottica Ancora non ho saputo nulla, mi dispiace O diversi video, magari anche 2-3 al giorno, 1 al giorno, 2 al giorno, non lo so Ma ragazzi di 7-8 minuti, non di più perché poi ci metterei anni a caricarli Per cui a voi la scelta, sapete che io vado sempre avanti tramite i vostri commenti e mai di testa mia Questa è la prima cosa importante, per cui se mi facete un favore, mi rispondete Mi facete contento La seconda cosa importante ragazzi, mi stanno arrivando diversi messaggi Allora, un attimo, uccido un attimo queste mucche perché io dovrei parlare E siccome non potrei Sì, ho una spada di vetro in mano, sì ragazzi, però come vedete in alto a sinistra Ho solamente pochi colpi, per cui le spade di vetro non ve le consiglio Sono potenti ma fanno schifo Un'altra cosa ragazzi, mi stanno arrivando diversi messaggi Sia in live che su youtube privati Che io copio chi Io copio chi Io copio lì Io copio qui, io copio ogni tanto Io copio Tizio, io copio Semprogno, io copio Caio, io copio tutti ragazzi Con questi pacchetti, questi launcher eccetera eccetera Ora vorrei dirvi una cosa importantissima Per chi mi segue in live lo saprà Ragazzi non faccio nomi di chi copio o altro Ma questo launcher, che tra un po' vi farò vedere anche una sorta di tutorial velocissima Come scaricarlo mi dispiace solamente per premium se non erro ma non l'ho fatto io Dicevo questo launcher che è l'ATL launcher Non è che io ho copiato qualcuno Il problema è che A parte io odio la parola copiare perché nessuno copia nessuno Il pacchetto è pubblico per cui tutti possono farlo Però se vogliamo parlare proprio dei principi della storia E questo launcher l'ho visto crescere e sviluppare io Perché ero in live su Twitch TV Trovate il link in descrizione Ci devono essere anche i video registrati comunque sia Ero in live con un certo Dislucky, un ragazzo inglese E un altro ragazzo che sono i creatori dei pacchetti e del launcher Il launcher era ancora in beta Per cui non era nemmeno pubblico Anzi chi lo voleva doveva pagare Perché in America lavorano così Sia con i pacchetti che con i launcher Chi lo vuole prima dell'uscita pubblica deve pagare A me, avendo fatto amicizia con questi ragazzi inglesi Ce l'hanno dato gratuitamente Per dimostrarlo in live, testarlo E dirgli eventuali bug eccetera eccetera E se vi ricordate Sono stato il primo a mostrare sia i launcher che i pacchetti E bla 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 Fino all'ultimazione poi del launcher stesso Per poi renderlo pubblico Perché grazie ai miei live abbiamo visto che il launcher andava bene Il pacchetto idem E Dislucky ha deciso di rendere tutto pubblico Per cui ragazzi Prima di criticare Accusare Chi copia chi Magari andate a vedere il ritroscena Andate a vedere le storie E saprete che Il launcher è diventato pubblico In un mio live Per cui non è che io copio gli altri Ma forse gli altri hanno copiato me Bene A prescindere da questo ragazzi Questa breve descrizione Mi sono rotto il cazzo di giocare Per cui io chiudo minecraft Ciao a tutti Sto scherzando Sto scherzando E che vi voglio fare vedere il launcher Allora due secondi ragazzi Datemi due secondi Add screen region Se così dovrebbe bastare Vi faccio vedere qua Più o meno che Blah 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 Allora Il link del launcher Dovreste trovarlo in descrizione Credo se riesco Se non lo trovate Perché non l'ho trovato Il link Ve lo metterò più presto Allora Questo qua è il launcher Create logicamente Il vostro account qua sotto Mi raccomando ragazzi Una cosa importante A parte essere premium Non so se sia anche per SP Il launcher non è mio purtroppo Non posso far l'io Una cosa importantissima ragazzi Mettete questa stringa Copiatela bene Meno XX eccetera eccetera Questa stringa È una stringa che va Nei parametri di Java E per chi non lo sapesse Infatti molti di voi non lo sanno Questa stringa Io la usavo anche con l'FTB È la stringa perfetta Che ci fa andare I pacchetti Qualsiasi pacchetto Perfetto Fidatevi che è così Mettete queste impostazioni Siete a posto A parte la memory RAM Io posso mettere fino a 16GB Avendo 16GB nel PC Voi mettetene più che ne potete Perché i pacchetti Sono veramente pesanti Poi andate su pack Ci sono tutti Tutti quanti pack Tanchete Quello che io sto giocando Attualmente in questa serie È il DNS Touch pack Unica pecca Quando avviate il launcher Sulla sinistra Troverete delle mod Che sono quelle obbligatorie Sulla destra Quelle che potete mettere O non mettere Da selezionare Fate come me Se volete Il pacchetto come il mio Non selezionate Né la Greg Tech Né la Train Craft Perché sono buggate Fidatevi E un'altra cosa Io Oltre alle mod Principali Ne ho aggiunte due A mano Ossia scaricatevi L'Overload Questo qua Lo so Il pacchetto è totalmente Buggato ragazzi L'avete visto in live Ma non ci interessa Scaricate l'Overload Che vi scarica le mod Poi dalla cartella Dell'Overload Prendete La Dart Craft E la Galactic Craft E la Galactic Craft Planet Che è quella lì Che per andare sulla luna Che aggiunge sia la luna Che Marte Queste tre mod Le prendete E le inserite In questo pacchetto Poi sempre Se riesco In descrizione Vi metterò Il mio file config Appena riesco a caricarlo O parlo Ricordatemi Se non dovessi Non dovrei averlo messo Ehm Ragazzi Aggiungetele Che cambiate Il file config Perché ho cambiato Alcuni id E alcune cose Anche durante il live E man mano Le sto cambiando Quando trovo Eventuali bug Bene Detto questo Ragazzi Cominciamo con la vera E propria serie Ok Eccoci qua Come vedete qua sotto 179 mod Single player Questo qua è il mondo del live Questo qua è il mio mondo prova E questo qua è il mondo E mio Dem 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 Ragazzi Sarà una serie Totalmente tecnica Volevo mettere come titolo Come ho messo il live Technic Pack Per tornare ai vecchi tempi Ma non volevo fare Lo stesso titolo Della serie Non so come chiamerò questa Magari la chiamerò Technic Pack lo stesso Vedremo Vedremo Allora Cominciamo seriamente Seriamonte Ci fottiamo la chest Ok Ci fottiamo le torce Ah una pecca Ragazzi Mi troverete un po' A disagio con i movimenti Perché ve lo faccio vedere subito Eeeh Che devo fare Esc Opzioni Vedete la sensibilità È un bug del pacchetto No del launch Scusatemi Io di solito la gioco ad ultra Però quando io metto ultra Faccio don Se io ritorno lì Mi ritorno a 100 automaticamente È una sorta di bug Non lo so Per cui Non mi trovo molto bene Dovrei abituarmici Allora Questa qua è una spada Di bombile addirittura Eeeh Come vedete La spada di bombile Ha ben 201 colpi Diciamo Diciamo Che E va bene Dai Per iniziare va bene Eeeh Importantissimo È il cibo Ragazzi Cercherò di spiegarvi Il più possibile Le cose che so Eeeh Come vedete Uccidendo i mob I mob nuovi Ci da quella specie Di cosa nera Che ci viene addosso Che ci cattura Vedete È che noi catturiamo La loro anima Poi premendo Il punto di domanda Possiamo scegliere E le Le cose Da noi catturate Per esempio Di fianco alla gallina Vedrete un simbolo Ossia del paracadute Se noi ci trasformiamo In gallina Vedete Vi faccio vedere Pampete Oltre a prendere Le somiglianze Della gallina Quando Eeeh Atterriamo Vedete che è plana Prendiamo anche Gli aspetti Dei mob Con il ragno Ci arrampichiamo Con il zombie Scheletri Prendiamo fuoco Di giorno Con i pipistrelli Vogliamo E bla 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 E siamo alti Quanto una gallina Vi faccio vedere E questa è la cosa figa Cioè è più alto Un ciuffo d'erba Di noi Bene 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 Fa niente Torniamo Noi Perché è più comodo Eeeh Ragazzi Come vedete Sto morendo di fame Allora Prima di cosa Prima di cosa Prima di cosa Bisogna prendere Della Della cobblestone E fare Una fornace Eeeh Una fornace Eeeh Sì Abbiamo la mano Nice Abbiamo l'artiglio Artiglioso Che scava In fretta e furia Come il cavallo Del west Per poi andare a prendere I treni Nella stazione Ok Non dovremmo avere legna Nice Infatti Ho ragione Non abbiamo legna Ragazzi Mi sa che vi toglierò I pezzi di caverna Eccetera Blah blah Magari vi farò vedere I pezzi più importanti Più 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 Vi farò vedere I pezzi Più 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 Dove troverò le cose Magari più meglio Prendiamo della legna Prendiamo della legna Prendiamo della legna C'era la La tricapitator Però con la mano Logicamente Non funziona Allora Facciamo subito Subito una crafting table Quattro pezzi di legno Per fare una crafting table La crafting table serve Per craftare le cose Astronautiche Allora Facciamo i bastoncini Facciamo Eh Vabbè Atrezzi facciamo dopo Facciamo la cosa più importante Ragazzi Che è una fornace È una semplice fornace Per andare a cuocere Le bistecche Ok Per poi fare Tutti gli attrezzici Facciamo Un piccone In questo modo Facciamo Un altro piccone In questo modo Facciamo Una pala Facciamo Un'ascia E facciamo Due spade A posto A posto Abbiamo le bisteccole In questo pacchetto Ragazzi Si muore Leggermente Velocemente Di fame Non so per quale motivo Ci sarà qualcosa Dentro che O non so Se aveva direttamente La 164 Però Lo scopriremo O me lo direte voi O vedremo Chi cazzo me lo dice Allora Abbiamo le bistecche Vi dicevamo Abbiamo questa spada Da consumare Ora Nell'attesa Attendibile Di queste bistecche Io Guardiamo un po' Un attimo La mappa Vorrei trovare Un bel bioma Per poter iniziare A costruire Bla 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 Ma Stavo cadendo Su Se cadevo Su Mi facevo Iai ai Allora Abbiamo delle bisteccole Io direi ragazzi Che magari Esploro un po' A funfia E vi Taglierò il video E ci vediamo Quando ho trovato Un buon postico Beh ragazzi Che c'è di meglio Eravamo lì Ho fatto veramente Un lunghissimo percorso L'ho fatto Sì no Una ventina di passi Ho trovato Un Villaggeme Un Eh Un villaggio Di Ah 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 Eh Eh ah 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 a rubare lo so che è notte ragazzi oh la rubiamo subito subito le carote importantissime 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 le carote 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 ah mettiamo il punto di riferimento io direi subito al volo volante eh dovrebbe essere la I perfetto white point new point mettiamo villaggio villaggio deserto ok don togliamo l'occhietto don back e malento che cacchio diversi che fanno ragazzi oh chi è chi è quel mona che sbatte le porte no rubiamo i cilibri si 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 rubiamo i cilibri eeeh la peppina di maiorca chi è ma buongiorno ma tooo via 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 ma tooo basta c'è gente che dorme qui eh caffoni buongiorno lo sente questo casino no 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 ditemi che qua c'è la chest c'è la chest c'è la chestica vabbè me ne bastava anche uno di libro eh non è che adesso 14 libri non è multiplayer eh siamo in single player amico abbiamo trovato i libri della towncraft così non dobbiamo craftarcelo ma lo abbiamo già ragazzi questa acqua è importantissima ve lo farò vedere più avanti nei prossimi episodi mettiamo acqua ricordatevi cq azzurra ragazzi questa acqua è importantissima anzi potremmo farlo anche subito ma non lo facciamo subito perché sono bastardo ve lo faccio vedere con calma e dai allora allora date fastidio buongiorno buongiorno allora abbiamo trovato il coso delle api che poi prenderemo basta cos'è petrolio lì c'è un fantasma oh cos'è qua ho trovato beh basta con tutte le porte ah ho trovato ok il fabbro che poi useremo ragazzi eh mi sono rotto le scatole mi sono rotto veramente le scatole questo rumore eh non sto scherzando la finite? che cazzo vabbè continuiamo a rubare le patate ah no sono pieno buttiamo un libro buttiamo un libro ci fottiamo le patate ok ci sono carote? no altre patate tu sei un fantasma deficiente ahia puttana ma to si fa male è veramente immenso questo villaggio ragazzi eh io direi di entrare che drento chi non c'è della lana da rubare ci facciamo un letto di solito nei villaggi c'è la lana di solito nei villaggi c'è la lana di solito eccola lì uno lì no 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 aia 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 No, devo prendere le torce Vabbè Troverò altri pezzi di lana Chi mi sta seguendo? Nessuno Basta E vabbè, pure i bambini adesso Eh? No, niente, continuate pure, eh Eh, la... Eh, sì La finite con quella porta? Oh, un cuore E un barattolo di esperienza lì Una cosa così Ragazzi, abbiamo trovato solamente un pezzettino di lana Bene, io troverei una casa adagiamente adeguata Per starci dentro tranquillamente Tipo questa qua Ok, però io toglierei la porta E metterei il blocco Oh, matonna Uccidilo Oh Bene ragazzi Questo è l'inizio di questa lunghissima serie E da Luke e tutto Un bacione e un abbraccio come al solito Pollici in su se vi piace Se volete continuare Ciao a tutti Buongiorno a tutti Grazie per la visione!